Basta, non perdiamo tempo. Preoccupiamoci per i nostri figli, preoccupiamoci per tutelare la salute delle nostre famiglie. Allora, siamo alla quarta ondata. Da qui a un mese avremo una situazione ancora più pesante perché cominceremo ad avere non solo una maggiore diffusione di contagio, ma anche l'emergere di fenomeni legati all'influenza stagionale. Siamo ormai di fronte alla quarta ondata di contagio. Dobbiamo tutelare la salute dei nostri figli. Si dichiara preoccupato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento televisivo del venerdì. Qui dobbiamo stare attenti perché se avremo da qui a un mese e mezzo, l'esplosione della quarta ondata di contagio e l'esplosione dell'influenza, noi avremo gli ospedali di nuovo ingolfati. Magari non le terapie intensive, sicuramente meno che un anno fa, ma avremo gli ospedali intasati e avremo di nuovo difficoltà a garantire i servizi ordinari per i nostri concittadini. Il presidente fa il punto sull'andamento della campagna vaccinale per quanto riguarda la somministrazione della terza dose e ribadisce l'obbligo della mascherina anche all'aperto, stigmatizzando l'assenza dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Noi stiamo procedendo ormai con la terza dose e lo facciamo contestualmente. Persone anziane, persone fragili immunodepressi, ma contestualmente mondo della scuola, forze dell'ordine, personale sanitario. Lo dico perché mi è capitato di sentire di nuovo da parte del commissario di governo per il Covid le fasce di età. Allora vi faccio un esempio. Noi a maggio, a giugno facevamo 70.000 vaccinazioni al giorno. Oggi arriviamo a 17, 18, 20.000 vaccinazioni. Dunque c'è spazio per fare le vaccinazioni non per fasce di età, prima gli 80 anni, ma per fare tutti. Vaccinare tutti, contestualmente. A cominciare, ripeto, oltre che ospiti delle residenze sanitarie e assistenziali, dove abbiamo già quasi completato la somministrazione alla terza dose, a cominciare dal personale scolastico, dalle forze dell'ordine e soprattutto dal personale sanitario. Questo è l'appello che io faccio. Rispondete alle convocazioni, ma presentatevi anche spontaneamente. Non c'è bisogno neanche delle convocazioni. Le convocazioni vengono fatte in maniera ordinata per chi è già oltre i sei mesi dalla vaccinazione precedente, ma non c'è bisogno di prenotazioni. Recarsi tutti presso i centri vaccinali. O per la seconda dose che non l'ha fatta, per la prima che ancora non l'ha fatta, per la terza dose per chi deve fare il richiamo ultimo. Voglio fare un appello a che sia rispettata una misura di prevenzione semplice. Voi sapete che la regione Campania è l'unica regione d'Italia che ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine sempre, anche d'estate, anche all'aperto. Oggi, di fronte alla quarta ondata, l'obbligo della mascherina diventa una cosa da rispettare seriamente. Io faccio appello alle forze dell'ordine, ai comuni che sono completamente distratti, alle polizie municipali, perché facciano rispettare l'ordinanza regionale che obbliga all'uso della mascherina. Vedo troppa gente che negli assembramenti serali, notturni di fine settimana, continua a stare senza mascherina, senza l'ombra di un controllo. Io non ho visto in queste settimane una pattuglia di forze dell'ordine o di polizia municipale che abbia elevato un verbale nei confronti di chi, in situazioni di assembramento, stava tranquillamente senza mascherina. È obbligatorio in Campania l'uso della mascherina, però è del tutto evidente che se nessuno controlla, prevarranno gli irresponsabili e daremo un'altra spinta alla diffusione del contagio. È evidente che in questa situazione noi, anziché accorciare i tempi per uscire dal calvario del Covid, li prolunghiamo di altri mesi, facendo correre rischi alle nostre famiglie, soprattutto ai bambini oramai e soprattutto facendo correre il rischio all'Italia di dover chiudere di nuovo le attività economiche.